Spesso vediamo delle bellissime immagini del Sole riprese con dei telescopi solari. Il telescopio solare è un telescopio che ci protegge dalla luce intensa del Sole, tagliando via tutta la radiazione pericolosa che potrebbe arrivare ai nostri occhi. Quindi noi riusciamo a vedere in questo momento un telescopio protetto con prisma di Escher che ci consente una magnifica visione. Ma se noi togliessimo questo prisma di Escher o qualunque altro dispositivo lasciando il telescopio senza nessuna protezione, mettendo la mano sotto al fuomo diretto non riusciremo a tenercela perché il calore è troppo intenso. Qui facciamo una prova con una foglia secca per vedere che veramente in un istante la foglia prende fuoco e bastano pochi secondi per bruciare completamente la foglia. Quindi vi consiglio di non puntare mai assolutamente un telescopio sul Sole ma neanche un binocolo o osservarlo direttamente a occhio nudo neanche per un attimo perché infatti basta solamente una frazione secondo per rovinarvi per sempre la vista o addirittura per avere danni ancora peggiori. Soprattutto non lasciate mai i bambini soli con degli strumenti astronomici esposti al Sole A presto! 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 Grazie.